Il 41.69 che servirebbe per andare in alto vale la seconda posizione della classifica provvisoria alla prova di Rino Sibiglia di U2 e quindi Filippo Cella, Rino Sibiglia, Massimiliano Ferrari o Migliori 3 al momento ma non è finita, in campo c'è Ilaria Suttera, Belnon. Inoltre con Fanta e altri percorsi lenti, comunque qui esegue Ilaria Sibiglia, Riana Guarnieri, Marina Balbo, Doemi Carella e il naturale di Artiglieri a cavallo, Filiari Sanzi. Un applauso ai concorrenti e ringraziamo ancora la signora Totti per aver dettagliato l'attenzione. Un giro sicuramente buono ma va a che...